Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video, oggi siamo di nuovo su Minecraft Ita dopo tanto tempo che non registravo, eccomi di nuovo qua Ve l'avevo detto che sarei stato infatti in gita scolastica, sono tornato ieri sera e non ce l'ho fatta registrare ieri sera perchè sono tornato tipo alle undici e mezza di sera E avendo dormito più o meno un'ora a notte non era proprio facile facile mettersi a registrare In tutti i casi oggi è domenica e siamo qua, no, beh per voi è lunedì, questo video è lunedì E siamo qua per fare un po' di esplorazione miniera perchè c'è diverse, ci sono diverse grotte, gallerie qua sotto E voglio esplorarle, poi prima di tutto volevo dirvi anche che ho fatto diverse cose off camera Stai, stai boh, dove, dove va, no, no, allora, cosa ho fatto? Ho fatto moltiplicare le mucche, ecco il cane che si teletrasporta bestia Ho fatto moltiplicare un casino di mucche e ho migliorato la casa, l'ho allargata perchè ad alcuni di voi non piaceva Ho fatto questo specie di balconcino, ho fatto anche un ingresso da qua perchè il piano superiore è attualmente accessibile soltanto da qui Eccolo qua E però è da finire, non lo so, c'è da fare ancora parecchio, lo faremo magari prossimamente Perchè ho visto la costruzione della casa non era piaciuta tantissimo E quindi ho detto no, forse non è il caso, cioè se non vi piace non va bene quindi ne andiamo a cambiare Cosa ci andiamo a fare adesso? Allora, intanto trasformiamo questi in stick Ok, poi ci facciamo un piccone in ferro Eccolo qua Che andremo ad alternare al piccone in diamante Poi tra poco inizieremo a fare le librerie a bestia Ok, stick, ferro, ok, siamo praticamente pronti Ce ne possiamo andare in miniera Allora, dovremo fare qua un altro Era morto un creeper Dovremmo fare qualche cosa tipo Ok, non mi serve, adesso lo butto Dovremmo fare un'entrata qua, finire le mura Perchè c'è ancora da fare, magari le faccio anche off camera Poi farci, voglio fare una sottospecie di fiume che va a finire sotto le mura e poi esce da di là Non lo so, vedremo un po', poi continuerò con tutte le mura Le faremo tutte intorno qua, magari che saliranno anche sopra la montagna Voglio fare una specie di fortino Faremo il ponte, insomma, adesso ci sono diverse cose da fare Vado a trovare la prima grotta Che è l'ingresso della prima... insomma, la prima grotta che trovo Il primo ingresso, ecco, mi ci butto dentro e poi iniziamo a fare un po' di esplorazione Bene, eccomi qua, ho trovato ovviamente una... dal mare Sono entrato in questa caverna, grotta, come vi pare Ho chiuso con della cobblestone, almeno non passa più l'acqua Cosa andiamo a fare? Beh, iniziamoci a prendere del carbone Anche se non è che ne abbiamo bisogno... no, ne abbiamo bisogno di carbone, non ne abbiamo tanto Però io ragazzi non ce la faccio, bisogna uso il piccone in diamante Perchè è più forte di me, se ho un piccone OP, devo usare il piccone OP Che poi non è proprio così OP, è in diamante e basta Appena potrò, inizieremo a fare qualche enchant, possiamo farne già due E incanteremo sia il piccone di diamante Che la spada in diamante, se riusciremo a trovare diamanti in questo episodio Perchè attualmente io non ho una spada in diamante Qui rompiamo ancora qualcosa Speriamo di trovare qualche spawner ragazzi Perchè almeno ci facciamo già subito una farm, che ne so, di XP Ma anche una farm di XP poi serve relativamente Perchè facciamo molto prima andare in miniera, secondo me E' più utile, cioè si fa prima a fare livelli in miniera Che fare livelli in... con una farm di XP Almeno che non sia una farm di Enderman Perchè ti danno una XP a bestia proprio Guardate quanto carbone c'è, boia ragazzi Comunque, parlando di cose serie, di novità da fare Me lo state chiedendo sempre di più in tantissimi Il fatto di fare dei vlog, diciamo di farmi vedere in viso Ma io ve l'ho detto, per me non ci sono problemi L'unica cosa che bisognerà, devo attrezzarmi bene Mi sono arrivate le nuove cuffie, peccato non riesco Diciamo, hanno due fili, quello per l'audio Il carbone basta, non ne prendo più Ne ho già uno stack e passa E dicevo, mi sono arrivate le cuffie nuove Il punto è che non ho l'in, diciamo l'in Nel computer è il coso, l'entrata Per il cavo del microfono E quindi non posso utilizzarle Devo trovarmi un adattatore E penso che lo comprerò Insomma appena lo trovo su internet Vado a cercare qualche negozio nei dintorni Uno scheletro, mori male, grazie? Perfetto Lo comprerò sicuramente Ok, niente E appena il prima possibile Poi devo trovare anche una videocamera decente Questa qui del mio computer non è buonissima Però ci posso provare Posso utilizzare magari anche quella, pensavo dell'iPad Che non è male Dai, ci posso provare E non lo so, insomma Devo vedere un po', devo organizzarmi bene Adesso andiamo dall'altra parte Per andarci a prendere Andare a cercare qualcos'altro Perché attualmente ho trovato soltanto carbone E non è proprio granché la cosa Sento degli zombie Ma non mi danno particolarmente fastidio attualmente Adesso vediamo cosa c'è qua Un creepa Mori male Creeper illuminato, eh? Fantastico Allora, qui non c'è nulla Ma noi possiamo utilizzare un vecchio trucco Che ve l'ho fatto già sentire Ah, sentivo degli zombie da queste parti, ok? Ok Sentiamo qualcosa Vediamo Le entità ci sono 9, 10 entità Ecco, da questa parte Da questa parte dovremmo andare Ci buttiamo qua dentro? No Più in basso Più in basso, no Di qua Sopra, no Sotto C'è tipo 48 fps Tsc e entità Quelle sono le entità Eh, da questa parte dobbiamo scendere un po', vediamo se troviamo qualcosa E le entità, quindi mob e roba varia Nel senso che in questa direzione ci sono 9 entità Fammi vedere, ci stiamo avvicinando, sento anche rumori più forti Ecco, da questa parte Ecco, da questa parte tipo Vediamo Scendendo Eh, dobbiamo scendere ancora Penso non vedevate nulla Quindi metto questo Tolgo F3 E vediamo se ci ho preso Sì, sì Sento sempre di più I mob Da quale parte sono Dai, 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 dai Ecco, tipo da questa parte Magari scendiamo anche un po' Sì, li sento molto forte 8 entità 9, 10 Ecco, da questa parte, dai Li sento sempre più forte Quindi dovrebbero stare da queste parti 3, dammi Eccolo qua Vedete? Che funziona? Mori, mori Grazie Aia, 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 aia Aia Guardate quanti sono Voglia È un'invasione Ma c'è uno spawner o qualcosa Per forza qua Eh, ma Eh, 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 eh Vabbè che poi ti metti qua Però guadagnano terreno, eh Sono Forti Fammi mangiare Ok, buono Fammi tornare giù Morite male, grazie Mori male, grazie Sì, c'è uno spawner là E sono Aia, aia A, a, a Tre cuori, due cuori e mezzo Due cuori e mezzo Forza, forza, forza Forza Dai, 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 dai Illumina, buono Uno spawner di zombie Ottimo, ottimo, ottimo Fammi chiudere un criba No, 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 no No, 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 no No Oddio no Oddio no Lo spawner Oddio 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 Monteferro String Poglia no Dai, lo spawner Ma io poi Madonna I creeper Perché ho avuto paura Di farle Madonna Dai Dai Mi ha rotto lo spawner Non ci credo Cioè Che nabbo che sono Ho rotto uno spawner Ma come si fa No, ma dai Ma come si fa Ma come si fa Io non lo so Io adesso Che dovrei fare adesso Prima di tutto Buttare le string No, string che no Non le voglio Le patate nemmeno Patate e carote Possiamo farci la farm Di patate e carote Questo è veramente ottimo Veramente ottimo Veramente ottimo Cosa butto Non lo so Facciamo così Ok Meno Non buttiamo nulla Fammi le accoglie No, dai Non ci credo Lo spawner Ho rotto Che nabbo Lo spawner Incredibile Dai, ci avevamo uno spawner Abbiamo trovato uno spawner No, 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 no Era pure vicino a casa Io, io, guarda Io, io, io Non lo so Ma che devo fare Boiavac Vabbè Niente Ne troveremo un altro Per forza Non c'è nulla da fare Vabbè che alla fine Non è Sì, ma questo era vicino Madonna Anche per i villager Era fantastico Ne devo trovare assolutamente un altro Speriamo ci sia Qua Madonna Il seed poi era Aveva aumentato un pochino Il numero di spawner Di spawner Che c'era Però Non lo so Adesso Vabbè Continuiamo La nostra esplorazione Ok, ho fatto un po' Di tagli Perché non riuscivo a trovare Livelli più bassi Ed eccoci qua Al livello 24 Quindi scendendo Poi dovremmo trovare Tutti i materiali Che più ci interessano Allora Senza perdere vita Con calma Ecco una cosa del genere Poi qui Ok, va bene Ah, qua vedo Della lava a bestia Vedo anche della redstone C'è un creeper Dell'oro Insomma c'è un sacco di roba E inizio a prendere subito Un po' di cose Ah, uno slot libero Ce l'ho Perché ho fatto altre torce Quindi ho finito Uno Prende un po' di carbone Ho utilizzato Uno slot di carbone E quindi ecco qua Che ho dell'oro Qua sotto c'è della lava Che è pericolosa Comunque ecco Un'altra patata Che ci ha dato È lo zombie Quindi ottimo Lava Attenzione Attenzione L'obiettivo è trovare diamanti Perché me ne servono altri Per farvi una spada Quindi speriamo Di trovarne Ma vediamo Se c'è qualcosa qua sotto Possiamo scendere Poi magari risaliamo Ah, c'è della redstone Qua la prendiamo Eccola qua Sperando che non ci sia lava sotto Anche se non ci dovrebbe essere Tipo mettiamo una cosa del genere Ok Lì c'è dell'altra redstone Ma è abbastanza complicato Prenderla No, 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 no Eccola Va bene Ne prendiamo anche un po' qua Perfetto Adesso risaliamo C'è uno zombie Mori male Mori, mori, mori Grazie Che facciamo così Mangiamo l'ultima fetta di carne Adesso siamo senza Prende cibo Avevano soltanto 18 pezzi di carne di zombie E questo non è che è proprio A nostro favore però Va bene così Ho trovato un sacco di risorse Che non ho preso Però Perché di fare una fine Ne ho tanto E non mi interessava Prenderne altri Qui possiamo fare una cosa del genere Utilizzare l'acqua Per spegnere tutta la lava Che se non c'è praticamente nulla Qua si ricollega altri laghi di lava Che abbiamo già visto Qui vediamo se si va da qualche altra parte Gravel Mori male Grazie Non ho sotto niente Lapislazuli Però quello è interessante Quindi facciamo una cosa del genere Mettiamo una torcia E ci prendiamo i lapislazuli Che non posso prendere Perché ho una stringa di ragno E la leviamo subito Ok Rompiamo la gravel Buono Altri lapislazuli Che ci serviranno per incantare Ma penso ormai Lo saprete Che servono i lapislazuli Per incantare E con i conti Ne abbiamo 27 Buono 27 Buono Quindi qua nulla Possiamo risalire Ok Magari così Perfetto C'è qualcosa sopra Ottimo E andiamo Proseguiamo C'è qualche tunnel Magari qualcosa Che ci può portare ancora più in basso Per cercare proprio i diamanti Ecco Potremmo andare anche lì Quindi Acqua Ottimo Torcia Scendiamo Qui Questa grotta è veramente fantastico Mi piace molto È veramente bella La potremmo utilizzare Al continuo Beh questa è veramente interessante C'è un sacco di materiali Ci sono E Beh potrebbe essere interessante Perché no Potremmo Farci qualche costruzione Come nella scorsa stagione Abbiamo costruito tanto Sottoterra Qui potrebbe essere Un buon punto Magari dovremmo sapere Dove sbuca Anche proprio per tornare in superficie Saranno cavoli però Cosa butto Facciamo così Così E così Ottimo Almeno abbiamo un altro slot libero Poi andiamoci a prendere dell'oro Ho visto dell'altra redstone E se trovo i diamanti Oh Prende È fatta Guardate quanta lava Mi dispiace però poi Trasformarla tutta In ossidiana Quindi questa la terremo un po' Magari Vedremo se Troviamo qualche utilizzo Qualche costruzione A farci con la lava Con tutta questa lava Questi laghi di lava Che sono A me piacciono abbastanza Mettiamo delle altre torce Andiamo avanti Poi qui risale però Possiamo vedere Se si va da qualche altra parte Qui si Si procede Fammi scendere Altro lago di lava Altra redstone Si Al redstone ci serve Perché inizieremo a fare Magari qualche farm Qualcosa Ci sarà molto utile Facciamo così Ecco scaviamo anche qua sotto Qua sotto Ottimo Bene E qui l'acqua Bene la mettiamo Andiamo a vedere Qui c'è dell'altra redstone Che prendiamo Magari ci rimettiamo un po' Dell'acqua Eccoci qua Redstone A manetta Ne abbiamo già diverse Di redstone 64 Abbiamo già finito Un altro stack Il che è buono Perché E' interessante Avere un casino di redstone Ci fa veramente comodo Torcia Leviamo questa lava Quindi andiamo a prendere Dell'altra Ma c'è un casino di redstone Madonna Granite Non ci serve per ora E quindi Redstone ancora Poi faremo qualche blocco Magari da recuperare Un po' di spazio Nell'inventario Si Quello lo faremo Tra poco E Di qua andiamo Proviamo a vedere C'è dell'oro Eccolo qua Dell'altro oro E della redstone Quindi oro Eh ma La sagra della redstone Davvero ne ho presa tantissima E dell'oro anche Ok Acqua Acqua veloce Perfetto Prima scaviamo di qua Che non c'è sicuro Poi qui Ok Ok Qua sotto Un po' di paura Scavarci No buono Anche qua Perfetto Prendiamo questo ultimo E ho finito anche un altro stack Quindi facciamo una cosa Intelligente Tipo così Intanto Torniamo sopra Non ho incontrato Ancora mob Il che è buono Mettiamo una working bench Facciamo così Uno Due E tre blocchi di redstone E quindi abbiamo recuperato Due posti Due slot Vedete E è molto utile Potremmo farlo anche col call Ma dato che ne abbiamo Uno stack Non avrebbe senso Prendiamo quest'altra redstone Ok Faremo quest'operazione Poi almeno abbiamo ancora Slot liberi Per prendere Guardate quanta Ottimo Ottimo Utile Molto utile Molto utile Questa esplorazione in miniera Adesso troviamo dei diamanti Siamo a cavallo Zombie Ok vieni qua Mori male Mori male Grazie 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 Ok Mangiamo un po' Perché sto Morendo di fame Cioè non è che sto morrendo E poi non mi dà neanche La La fame Quindi è ottimo direi Altra redstone Fammela prendere tutta Più ne abbiamo Meglio è Ovviamente Ma Davvero ne ho trovata Un casino Poi abbiamo fatto quasi un altro stack Tipo Quattro stack di redstone Dai diamanti Chiudiamo in bellezza Mi scavare Vediamo Scavarci una fessura No Niente di particolare Non c'è nulla Ce ne possiamo tornare indietro Poi passiamo qualche altra torcia Eeeh Molto horror È venuto uno zombie Non l'avevo visto Ehm Nulla Qua sopra c'è dell'oro Lo andiamo a prendere Anche se con l'oro Non è che ci facciamo tanto Ci facciamo al massimo un orologio Eeeh Poi qualche altra cosa No Niente di particolare Con l'oro Non ci sono attualmente Grandi utilizzi Però sarebbe bellino Averci qualche Magari Poter fare un golem d'oro Sai che figata Fai il golem di ferro Il golem d'oro Vabbè Comunque Eccolo qua Ce lo prendiamo tutto Facciamo una cosa tipo così Scendiamo ancora Eccolo qua Oro A palla Con il pezzo di carbone Lo lasciamo Tanto non ci serve Eccoli qua Smeraldi Ottimo Uno smeraldo Che ci serviva Proprio Lasciamo questo Lasciamo questo Prendiamoci lo smeraldo Mi lasci le ossa Ok Ecco lo smeraldo Andiamo avanti E però Magari la continueremo Nel prossimo episodio Questa Escursione in miniera Poi se vi è piaciuta Magari Possiamo davvero continuarla Qua eravamo dove Non so se c'era C'ero passato qua Però vedo della luce Quindi probabilmente Là c'ero andato Scendiamo qua Infine Vediamo se c'è Niente Non c'è nulla E quindi penso che Per questo episodio Posso essere tutto Peccato non aver trovato Diamanti Ma qui non so se ci siamo stati Ci posso andare guardare Sì ma qua C'eravamo stati sicuri Aia Il buono mi ricordo Sì sì ma questi Dove eravamo prima Giusto giusto Aia scheletri Beh bestia Bestiaccio Morite male grazie Uno E due Mori male anche tu Perfetto Mettiamo le ultime torce Che abbiamo poi Ecco un altro smeraldo Grande Si trovano anche degli smeraldi Ne ho trovati già quattro Questo è il quarto Che trovo Mi era capitato mai Di trovare quattro smeraldi In Oh altri lapislacci In fondo un altro smeraldo Fantastico Bene Finiamo di raccogliere questi Smeraldi Questi lapisl Sono un idiota Ok Prendiamoci l'ultimo Però diamanti Non se ne parla Per niente Beh qui comunque C'è ancora da scavare Quindi Se vedo che l'episodio Vi è piaciuto Magari ripropongo Qualche cosa del genere C'è uno scheletro là Fai mangiare Che almeno recupero un po' di vita Perfetto C'è uno scheletro Lo uccidiamo male E va bene Comunque per questo episodio è tutto Poi faremo il resto Nella prossima puntata Per ora mi chiudo qua Recupero un po' di vita Faccio le varie cose del caso E niente Preparo un altro piccone E tutto il resto Quindi ragazzi Per questo episodio è tutto Io vi ringrazio tantissimo Per la visione Vi ricordo di lasciare un mi piace Se il video vi è piaciuto Di iscrivervi al canale Se ne avete già fatto Di condividere il video su Facebook Se volete farmi conoscere a nuove persone E noi ci rivediamo Un prossimo video Ciao a tutti ragazzi